musica 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 una data in 5 4 3 2 1 togli sta roba Maca Maca togli sta roba cos'è che cos'è Comunque, bello a tutti ragazzi, qui abbiamo Maurizio Sono in compagnia di Maka nel PBE E c'era lui che stava mettendo una canzone Che non voglio per niente sentire Non ho parole Comunque, siamo nel PBE Per provare Tam Kence Che mi piace Maka Maka Scusa, è troppo bella Grazie Tam Kence che come champion mi ispira Tantissimo Sia come support che come top laner Maka dice che è un support Io provago di più Io dico che è un support fighter, stai bene No, è prima top laner E poi anche support No, è prima support Non importa, ho ragione io Ok Perché Ah, mi conosce anche Momo c'era in italiano Sì Ah, ecco, vedi C'è il doppiaggio? Cosa devo comprare? C'è il doppiaggio? Non lo so No, è muto Ah, ecco, vedi Peccato Ti perdi già I tanuti di capelli Ehm Che Che item contro di giungle? C'è di support Scusa Boh Per me potessi supportare di relic Non è ranged Ah, che bello il lag del PBR C'è, sembra ranged Ma è melic Insomma Guardiamolo Grandissimo Grandissimo Big pull Ma è nele o è nele? Cosa? Anel Anel Si Comunque Mosse Visto che sono support Penso La Q La Q Dici No, la W No Pensiamo che Mi sto fidando di Maka Impressionante Come cosa Ha un buon range C'è un cooldown di 6 secondi Fin dall'inizio Tipo Gli spari qua E la lingua Uh No, un altro Riferimento a helmet Bro È l'elemento di quello lì Che c'era nel video Di Vercoc Quello lì che Poveretto Si becca sempre le botte Aspetta Sempre nel posto sbagliato Oh mio dio Maka ha preso un last hit Maka sta farmando Ragazzi Quanto sono belli I minion Full party Ho preso Ho preso un minion E ne ho presi due Mi sembra molto Delanciata come cosa Devo passare il volume Aspetta No, i renditi utili Arassa Usa la lingua Usa la lingua Sono molto ambiguo Ho detto così Però Con un certo Con un certo Lug Eh, non volevo Beccare il minion Sei proprio main Prendo un minion E lo mangio Poi lo scudo Oh Oh In teoria puoi mangiare Tutti i mostri Trano il drago E il baron E anche il blue e il red Appunto Tutti i mostri Trano il drago E il baron Devo dire anche il blue e il red Se dici due cose Maca Le altre sono Sono comprese Devi dirle Ho detto tutti i mostri Trano il blue e il baron Non è che se sei sardo Puoi dire cose a caso Trano il drago e il baron Questo te lo mangio E lo butto Quello lì era mio E invece è mio E ho finito il mana Questa persona è platino Ho finito il mana Aiuto Bravo Bastitto Bravo Ah si bravo C'è il proprio Vai e partire la sala Bravo Anche tu vedi i nomi Della gente In grassetto Beh Si perchè Non dovrebbe esserlo E una cosa nuova forse Che schifo Che ne sai Non è vero Per me è anche meglio Non è brutto A me fa schifo Tu sei la mia strada No 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 Zitto Non so perchè E' bellissimo C'è tipo Wow L'ho detto che quella w è più troll Dello di di bars E' bellissimo Però costa un pochino il mana E ha anche 20 secondi di cooldown Beh il cooldown è anche giusto Forse il costo in mana no però Un po' troppo Aspetta che palla Che c'ho Un posto del 30 Che su 4 Ragazzi vi avviso Che questa lane Non la vinceremo Prima di tutto Perchè il PBA Lagghiamo Secondo perchè Non è vero Non è vero Non è vero cosa Io c'ho Normalissimo 250 di ping Normalissimo Però fare 3 stack Qua in bot è un po' difficile Da auto attack La Q applica lo stack Eh uno solo Eh due auto attack Eh faglieli tu due auto attack E durano anche un bel po' C'è tutto il tempo di applicargli Ok no non è vero Arriva Trandol Arriva Trandol Con arroganza Era guardato Non ci credo Nice 3 yard e il PBA Attenzione E' un bello main deep Mi servono le scarpe Ma che fa Farma Sì ma stai calmo Attenzione Trandol Attenzione ci fa Ha deciso di Cosa fa Vatteme Trandol ha detto No al colesterolo Mauri no Guarda quanto è grasso Ti prenderò un minion Invece Ahia Ma hai fatto failare però Non fai progressi Ho una mira Da LCS Ma la gang mi ha trovato Attac di MF La passiva della E È davvero troppo forte Quasi come Garen Più o meno E la mia Q Bella mira Bellissima Di build non so cosa fare Mi farò semplicemente Vita Wormung Sei Wormung Wormit Ma che lcs farming 31 minion A 7 minuti Word non ne compro altre Perché tanto Sono con te Non servono Vabbè di che sei Stronzo Nel frattempo Nel frattempo Jc in top Sbaglia i minion Trandol Fa Il grunt Vabbè Ha intanto ucciso Nihard Dai What? Ha snapperato Ha progressi Progressi Mau Siamo quasi al 5 Io sono a metà del 5 Vieni qua Siamo quasi al 6 Siamo quasi al 6 Io sono a metà del 5 Mau Che fai? Tranquillo Posso sputarmi da solo Anche io Ah si? Si si No che schifo Altrimenti troppo troll No Non è giusto così Gli alleati possono decidere Quando uscire Anche tu puoi decidere Quando farmi uscire Eh quello si l'ho fatto E' un po' come l'ulti di Kalista Peccato Vai Mauri Bello main Il flash Vedi Vedi Si dice essere main Aspetta 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 Uno E invece Mangia un minion Tirglielo addosso Anzi no Pam Pam Miss Ho mancato tutto Ho mancato tutto Hai evitato una skill Almeno una Non dico 50 Una Oddio Dove esce sto qua Ma non la Il cibo La cosa che Mi fa cibare di te Easy Maca vieni qua Vieni 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 la ulti Ma so che cos'è Come si fa Ma ho diventi targettare Dove puoi teleportarti Eh sto targettando Ho flashato Bello il flash Maca faglielo To attack OMG Maca e main Ho il flash sulla F Eh È giusto No 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 Il flash va sulla D Perché D sta per Do flash Comunque Sta per Death flash Non ho capito Ma U È come un teleport Ma io Ho premuto R Tu sei entrato dentro di me E ho premuto Di destra Su un posto Tu devi premere R Eh Cioè tu devi andare Targettare sulla mappa Il punto dove vuoi andare Sulla mappa Non sul Sulla mappa si Da qualche parte Dove vuoi andare Come un teleport Beghi tu c'è Come un teleport Poi premi R lì Entro quel range Tu apri la bocca Io ho 15 secondi per entrare Altrimenti se tu recasti Vai da solo Ah ho capito Hai premuto su me stesso Per quello Bravo È bello main Ora ho capito Comunque se ti muovi Puoi anche cancellare la ult Va bene Se ti muovi la Blocchi e metti 10 secondi di cooldown Non so quello di dare Faccio schifo support Quindi Mi compro una sidestone Io faccio schifo di carry Però dai Vieni qua Non ti mangia Non mi farò problemi A uccidere La voce di Lucian in italiano È davvero brutta Dovevano compensare Per quella dei trash Fatta da dio Il doppio italiano di trash È davvero bello Ma ho la ulti Mi mangi Devi primo ultare Are you ready? Sì ma aspetta Non ci arrivo Non ci arrivo E ti hanno bloccato Me l'hanno bloccata Tronti di merda Fai schifo Ma Come rovinare tutto Mi cura Guarda Guarda Le cure legit Che ha anche a quel centro Guarda New main Le pozze non servono Quanto tempo ho Per fare soldi Per contarmelo È un bel po' Perché in teoria Ha dei bug che non conosciamo Bug che non conosciamo Cheap Sorry I feed Va bene È 0-3 Poverina La gente si fa problemi A feedare nel pb Capisci? Eh sì Metti tu reward Bravo Bravo di che Ma non è bellina la riot ward Perché non la danno a Luke Che ne sai? A Luke l'anno scorso Non la davano Era mio poi mio Bravo sei main E' bello main dentro Leva tanto C'è poco cooldown C'è un range della madonna Che puoi di più Toglie davvero tanto Attenzione Magic damage La cup magic damage È anche tanti Ho pagato un minion Vabbè che già Nei super fish Tra poco faccio Come Dyrus E si tira un pezzicotto Ogni volta che fai un minion Ma avevo 7 secondi E ora ulti Avvisami però E non andare troppo in là Che non posso mangiarti Te la faccio contro i minion? Eh farò davanti ai minion Vai Non ti mangia Non mi puoi mangiare Mentre ulti Dopo riproviamo Però stiamo fermi 99 secondi Grandi test Mentre giochiamo Mi hanno boccato Chi mi bocca? Fregatene Vieni qua Macca vieni qua Sì ma stai calmone Oddio Vabbè la mangio La mangio No Dai please Please Voglio mangiarla Sì Sì Non la mangia Perché non la mangia? Devi essere proprio Melly range Fai schifo Macca Stai zitto Non l'hai mangiata Ah è ace Come ace? Non lo so Tu sei 2-1 La madonna Troppo Feed Ora Ok Ok adesso mi butto 9-5 Warrior Mario Mario Ulta Verso la lane Please Quanto range Eh no Aspetta Devebbe avere 6000 di range Da quando Che arrivi? Qua Vai Bellino Però credo che In teoria dovrebbe aumentare Dovrebbe aumentare Facendolo Hai fatto Quei livelli Vai facciamolo Facciamolo Allora Fermati Mettiti qua Ulta il cosettino Ciao vecchie K K K Con quelle animazioni Senza senso Te ha anche mangiato K K TAM contro TAM E' davvero brutto Ci si mangia vicenda Dai PLEASE PLEASE KILL FAMI QUALLA OLLA WORD WORD TUTTO WORD MAU Bello o la mia abuela Se decimino MAU 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 Cosa Perché mi dice che IMF è in pancia Mentre invece no Io vedo un'icona Di IMF A fianco al suo nome I bug Ti ho detto Io? No PUSHA 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 LA BOTONTE E' TISTILE DA FARE Non mi farò problema La razza è molto bella Oh mio dio come mi sono salvato Oh mio dio Oh mio dio Però non so perché Misfortune Non ha mai fatto danno Però quando ult ha shot tutti È un infinity Non vuol dire niente Vorrebbe essere il contrario Mi compro B Questi Scarpe a caso Comunque secondo me Il supporto non è il massimo MAKA Sai cosa fare? Cosa? Non ho niente Provo teleportarmi Però niente Vado ad aiutare No Come ho detto Neanche Se vuoi Ulto 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 Vieni 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 C'è ISA Bello main L'idea c'era però Dai Ahah Si chiama testing No No te lo zittavo No te lo zittavo Escapo 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 Numas numas Voglio fare una kill Oddio Mamma mamma Voglio fare un flash cool OMG l'ho fatto Boom Invece Chi ha flashato Chi ha flashato Nessuno Nessuno Vai Maca vai Vai Maca Attenzione Invece Un altro flash Orribile Che Cosa stanno vedendo I miei occhi Ok in teoria La Rodophage si deve fare Vedendo quel Tamcanchi nemico Che adesso A cui adesso copierò la build In una maniera Eccezionale Oddio Facciamo il 1v1 Dai Dai Oddio Perché mi ha levato così tanto Con una ww No Magari perché A 10-3 Davvero salite no capo un po troppo capa 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 e li ha tommi scusate ehhh... dov'è Trandor? top vai vai quanta schifo di vita ha col sindrome il punto che è orribile vedere quella vita grigia che ti confonde nooo ehhh... com'è questa servata? ehi... com'è questa servata? ehi... 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 da genere da c'è desvalata ah c'è flash? Cos'era quell'ignite a casa? Vai Maca, vai, vai, ma se non ti mangio Non tu orri, non morri Ara Fuggiamo, fuggiamo insieme, vai Maca Vai Maca, vai 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 Fuggiamo insieme PAM Mi punirai No, 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 no Ti muto Ti muto Aspetta 10 soldi che mi compro Questo Per finire l'Italian Support Per avere vita a caso Fidate quella cosa Perché Tandor non è ultra fidato Visto che la so è fortissimo E perché l'icona di Maka, sbaglio, o l'icona nella mappa Di Tahm Ken, cioè è uguale a quella di Kog'Maw Se si confonde E non parla Ma che mutato Sei tu che sei orbo Ah, davvero somiglia Sei orbo proprio Ciao So che sono orbo Però sono l'icona di Kog'Maw In basso a destra No, guarda, che ti fa Sì Guarda, siamo uguali Aspetta, posso mangiarlo, però? Forse Aia No Mai stati Kog'Maw 20 milioni su 10 20 milioni su 10 Sono incastrato Sono incastrato Ok Se è così grasso oppure è mio È un tipo di blocco Quanto scudo ha? Una madonna Adios E mi sa che c'era una mappa Ma non mi interessa La faccina più brutta mai fatta No, tra l'altro ti salverò io Perché flash Vieni qua, tra l'altro Vieni qua Maca, guarda, guarda, guarda Attimamente troll Aspetta No 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 Mi sono riuscito Please E Maca Ti consiglio di premere tab E guardare la build di Cagnar E se vuoi piangi anche perché fa davvero schifo Oh, guarda, stavo con la build di Cagnar Aspetta Questo non serve Volevo stilarla Vieni qua Vieni qua, Maca Vieni qua Ti mangio Vieni qua Ho sbagliato Perché scrivi Se ti sento scrivere Maca Boh, così Per farti reggiare Ecco L'ho Per farti reggiare Sì, non c'è una parte. Sì, non c'è una. Diamo andato. TAM Pnetta? Comunque la vede che si è fatto l'altro TAM Mi piace Ed è forte come lo schifo Perché P non ha per più lo shop? Solo te Mi leva i nomi Va bene Solo a te? Va bene Belle client ma non va Lo so grazie Nice bug Ah questi bug Nice bug Perché mi hai mangiato? Per salvarti Da cosa? Da tutto Da qualsiasi cosa Non ne leviamo niente E il punto è che quella vita può recuperarcela quando vuole Lo corri a usato attaccarlo? Guarda lo corri Sì guarda chi slappa di più Va bene TAM è forte Non support Confirma Ed by Maury Vedi manca come dicevo io Support fa schifo E tu che fai schifo Non è vero Anche tu che schifo Io dico no Perché sono in birichina Comunque ragazzi Non sono sicuro se uscirà anche il video di Ken Come si chiama questo schifo? TAM Ken C'è in top lane Se uscirà Boh ve lo farò sapere Sulla pagina di facebook Ricordatevi di mettere mi piace E niente Non finiscono Sì sì finiscono E ho avuto E invece no Ci vediamo nel prossimo video Bella Ciao